Amici di Quarta Parete, buon pomeriggio, mi trovo all'interno del Teatro Laura, dove sanno ultimando le prove di questo spettacolo che si chiama Le avventure di Alicia nel Presa delle Meraviglie, in compagnia della scrittrice, dell'autrice, interprete, Giulia Canali. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Buongiorno. Faccio io, ti faccio la domanda? Lo spettacolo si intitola Improvvisamente Alice. Improvvisamente Alice. Hai fatto la giusta correzione, sì, ispirato naturalmente al romanzo di Lewis Carroll. Dico bene. Allora Giulia, tu sei una giovane attrice che veni da Parma, quindi una realtà completamente diversa da Roma e affronti la piazza romana. Come ti senti? È abbastanza agitata perché comunque è una piazza importante e anche impegnativa perché comunque è molto più grande di Parma e poi non è la mia città perché a Parma insomma mi sento a casa. E quindi sì, sono molto agitata e speriamo... Quindi parliamo di questo spettacolo che è molto interessante, che parte comunque da delle tue riflessioni, no Giulia? Essendo tu una pendolare... Sì, infatti nasce dal mio anno da pendolare tra Parma e Bologna e più tutti i viaggi che sono susseguiti al diploma dell'Accademia perché io ho fatto la scuola di teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone. Quindi quando ho finito ti ritrovi a viaggiare appesa a un sogno. E' il destino dell'attore, no? Giusto, sì. L'eterno girovago e viandante. E niente, quindi attraverso queste riflessioni che ti ritrovi a fare in viaggio, le ho intrecciate con dei ricordi da bambina di un nonno molto bizzarro, che era Reverberi Giacomino, che era un aquilonista, il grande vecchio aquilonista italiano, perché fino a 95 anni la sua forza e il suo essere bambino l'ha portato in giro per l'Italia e l'Europa con vari amici che l'hanno supportato in questa sua passione e portava quest'arte antica degli aquiloni. che ti affascinavano. Sì, no, ma poi, cioè... Poi immagino che avevi un rapporto un po' particolare con tuo nonno, no? Quasi privilegiato. Io sono l'ultima, cioè, no, perché poi ci sono anche i miei nipoti, però sono la penultima generazione che lui ha cresciuto e ho preso l'ultima parte della sua vita e quindi è stato un nonno diverso da quello che ha vissuto mio fratello, però sempre con quella forza e con quella voglia di vivere che lo distingueva. E quindi mi piaceva molto portare questa figura perché credo che sia una figura molto forte che mi ha dato dei valori di un'altra generazione e anche di una forza appunto di vivere e di non smettere mai di essere curiosi, questo qua lo continuavo a dire, e di sognare sempre e di andare oltre. Con quegli occhi non so come fare a non sognare, perché l'ha puntualizzato. E quindi, niente, con il pretesto di Alice nel Paese delle Meraviglie, che è un viaggio alla ricerca di se stessi, si intrecciano appunto queste mie vicissitudini di viaggiatrice e anche di nipote. Quindi sono ricordi di vita, insomma, di ricordi di vita vissuta. Sì. Mi ha colpito molto una frase dove tu, insomma, anche nella presentazione, diciamo, di questo spettacolo, dici le cose sono impossibili solo se pensi che lo siano. Sì. È vera questa cosa. È molto vera, perché comunque bisogna anche un po' sforzarsi di cercare di non pensare che sono impossibili. Questo viene anche dal testo di Improvvisamente, di Alice, di Carol, però era una cosa che distingueva molto mio nonno. E quindi lo... Il tempo ti ha segnato, eh? Sì, 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 perché comunque anche creare questo spettacolo era una cosa un po' impossibile, che poi è venuta anche grazie alla collaborazione di professionisti, quali Franca Tragni, che mi ha aiutato nella scrittura del testo, Caterina Marino, che è una mia collega di Roma, che mi ha aiutato nel... Più nella messa in scena, lei. E poi fondamentale è stata anche la collaborazione con Patrizia Mattioli, che è una compositrice di Parma, che ha dato... Il commento musicale. Il commento musicale, che sono... cioè, dialoga con me, quindi è un personaggio a pieno titolo. Sì, 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 sì. E poi grazie anche alla coproduzione di Europa Teatri, che è un teatro di Parma, che mi ha... Che ti ha, insomma, sponsorizzato. Bravo, che mi ha dato lo spazio e la fiducia, ecco. Certo, certo. Senti, credo che questo sia un testo che va bene per tutti, no? Grandi e piccini, no, Giulia, insomma? Sì, sì, assolutamente. Quindi, anzi, ampliamo questo appello, no? Anche ai bambini, perché poi in realtà è una favola contemporanea, se ci pensiamo. Sì, sì. Io lo... cioè, il testo è molto presente in questo spettacolo, oltre che io faccio... Cerco di mettere in pratica tutto l'insegnamento che anche la scuola e i miei stagi di teatro mi hanno dato. Quindi si va da pezzi di movimento a pezzi di mimo. Il testo è molto forte, quindi i bambini, ho visto, perché l'ho portandoli in giro per festival, ho visto che dagli undici anni in poi lo capiscono. Certo, certo. Gli altri lo guardano anche ammirati, però, insomma, non è proprio per... Non si può chiedere più di tanto. Ecco, infatti. Però è importante che, secondo me, anche le generazioni giovani lo vedano, perché è proprio questo che volevo dare, cioè l'insegnamento, che la voglia di spingersi oltre, che quando si è giovani, insomma, c'è quella fase della risa. Ecco, sì, sì, sì. Quindi tu in questa storia sei Camilla. Sono Camilla. Camilla che a un certo punto viaggia su un treno, provvisamente questo treno si ferma e che succede? Eh, si blocca in questa stazione che non si capisce bene dov'è, che cos'è, e questo viaggio si trasforma, ricordando molto il viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, incontrando questi personaggi, quindi più che risposte gli fanno delle domande. Quindi tu sei, come quando sei nella noia, che se non hai il tuo cellulare o non hai quegli escamotage per evitarla, hai tutto il tempo per farti queste domande esistenziali, ma hai anche tutto il tempo per trovare le risposte. Ed è questo. Assolutamente, e quindi il messaggio è che si può convivere anche con la noia. Anzi, secondo me bisognerebbe ritornare a vivere con la noia e viverla, perché è fondamentale, cioè è proprio un momento che è solo per noi e non dovremmo avere paura di starci dentro, perché poi è uno star, non è un vivere la noia, è uno stare lì e aspettare che si smuova qualcosa e probabilmente ti conosci anche meglio. Sono d'accordo con te e deve essere un incentivo a continuare a sognare, perché poi fondamentalmente tutti possiamo realizzare i nostri sogni. Sì, basta non pensare per primi che sia impossibile, ma tentare. Allora, ripetiamo l'appuntamento che sarà il 13, serata unica, secca, con alle 20 un aperitivo e per questa occasione ho creato una mostra per spiegare, cioè per fare entrare il pubblico un po' meglio a conoscere questa figura che appunto è Giacomo Inore Verberi, quindi ci saranno delle fotografie sui suoi aquiloni e poi alle 21 lo spettacolo al Cineteatro Laura, qui dove siamo adesso. Allora, io ringrazio Giulia, vi invitiamo anzi a venire tutti quanti dagli 11 anni, ma anche prima insomma fino ai 90 a vedere questo straordinario spettacolo che si chiama Improvvisamente Alice ispirato dal famoso romanzo di Lewis Carroll, l'avventura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Giovedì 13, ore 20 mostra, ore 21 spettacolo, venite, tutto qui. Grazie mille, grazie a te. Grazie a voi, buon teatro. Buon teatro sempre. Sempre.